Salve a tutti ragazzi, bentornati a un nuovo appuntamento con Special Program in versione ZX Spectrum 48K. Ringrazio ancora tutti gli amici che sul gruppo Edicola 8bit e sulla pagina Gameplay e Retro Games World hanno lasciato feedback ai numeri precedenti e vi ricordo l'appuntamento con il lato A della cassetta relativo al Commodore 64 di cui si occupa Roberto Piredda. Lo potete seguire come sempre in diretta live streaming ogni lunedì a partire dalle 22 e 30. Siamo arrivati al numero 20, uscito nel marzo del 1986 e da questo numero in poi abbiamo due importanti novità. La prima riguarda i giochi proposti che da 7 diventano 10 per parte, segno che a distanza di due anni dalla pubblicazione del primo numero il risponso da parte dell'utenza era stato ben gradito. La seconda la vedremo direttamente più avanti. E andiamo immediatamente a vedere i 10 giochi che ci vengono proposti. E allora abbiamo Pattinaggio, Maskless, Red Colt, Electric Frog, Bob, Open War, Robot Mask, Gangsters, gli antenati e a chiudere Silver Arrow. Di questi 10 ne vedremo solo 8 in quanto 2 sono risultati difficili da gestire a livello di gameplay e anche a livello di configurazione dei comandi. Andiamo a caricare la prima parte della cassetta che come al solito è l'introduzione. E qui abbiamo la seconda novità di cui vi ho anticipato poc'anzi, lo potete vedere dai bordi che durante il caricamento sono ora colorati in maniera diversa. Questa modifica è dovuta a una revisione della routine di Turbo Loader, ci troviamo infatti di fronte alla seconda versione del Fast Loading Biturbo. Possiamo andare direttamente a leggere la intro. Ciao ciao bellissimi amici di Special Programme. Un ennesimo appuntamento per la vostra rivista preferita. Abbiamo in serbo tante tante novità per il nostro bravo e affezionato pubblico di lettori. Grossa novità. Da questo numero trovate nella rivista ben 10 giochi per il vostro grande divertimento. Oggi, come non mai, trovate dei giochi dalla grafica terrificante e dalla musica stupenda. Sì, avete capito bene. Proprio della musica fantastica, che con il misero bip dello Spectrum non è cosa da tutti. Tanto da fare proprio grande concorrenza ai vostri amici commodoriani. In questo numero Pattinaggio Maskless Red Colt Electric Frog Electric Frog Bob Open War Robot Mask Gangsters Gli antenati Silver Arrow Buon divertimento E andiamo quindi a caricare il primo gioco, ovvero Pattinaggio Lo andiamo a vedere sulla rivista L'inverno sta quasi per finire, ma per chi fosse un appassionato degli sport invernali, ecco che per il vostro Spectrum troverete uno spettacolare gioco dove potrete cimentarvi in una gara di pattinaggio. Prima di iniziare a giocare dovrai scegliere se gareggiare contro il computer o con un tuo amico e dopo aver scelto la lunghezza della pista potrai premere S. A questo punto preparatevi per la gara. Quando sarete pronti premete Space e via. Per aumentare la velocità potrete muovervi a destra e a sinistra e per spostarvi da un posto ad un altro dovrete premere Q e A. Ricordatevi che nella veduta di spalle il giocatore 1 è quello sulla sinistra, mentre nella veduta laterale è quello più lontano. Alla fine della gara, se non avrete raggiunto un punteggio elevato, verrete squalificati e dovrete ricominciare da capo. E vi ricordo il nome originale di questo gioco che è Winter Sports. In realtà qui abbiamo solo una delle otto prove previste dalla versione originale. Paradossalmente questa situazione è simile un po' a quanto abbiamo visto sul Commodore 64 con titoli come Castles of Dr. Creep dove venivano proposti singoli livelli. Più avanti infatti troveremo un altro gioco, ovvero il Bob, che fa parte dello stesso titolo, sempre come prova singola. Il metodo anche qui è comune alla maggior parte dei giochi appartenenti a questa categoria, quindi si smanetta come i pazzi con il joystick o con i tasti a destra e a sinistra per dare velocità. E utilizzando altresì due tasti che corrispondono al basso e alto è possibile spostare l'atleta sulla pista. Bisogna percorrere una distanza di 500 metri, così come indicato in alto a destra. Abbiamo due visuali, una laterale e l'altra di spalle, con indicato il tempo trascorso. Una volta coperta la distanza complessiva, il gioco arriva al game over ed è possibile ricominciare. Diciamo che in sostanza non c'è nulla di rilevante, a meno che non si careggi contro un avversario umano per avere un equilibrio delle parti. Eccolo qui, game over. E questo era il primo dei giochi proposti, ovvero pattinaggio. Andiamo avanti. E andiamo a vedere il secondo dei giochi proposti, ovvero maskless. Che cosa siete, un uomo o un mollusco? Questo gioco vi aiuterà a scoprirlo. Per diventare un vero forzuto come George, dovrete superare una serie di prove dove dimostrerete le vostre reali capacità. Nella sessione prove potrete aumentare il volume dei vostri muscoli sottoponendoli a vari sforzi. E per fare ciò dovrete muovere il joystick a destra e a sinistra, quante più volte riuscirete in 10 secondi. Ma se non volete fare fatica, potrete semplicemente premere il bottone del fuoco per vedere aumentare il volume dei vostri muscoli. Superata questa prima fase, dovrete cimentarvi in altre dimostrazioni di forza. Tiro del camion. Premere il fuoco per iniziare e una luce gialla indicherà il muscolo da utilizzare. Muovete la freccia sul disegno che indica il muscolo richiesto il più velocemente possibile. Taglia legna. Dovrete spaccare un ciocco nel tempo previsto. Premete il fuoco per muovere l'ascia. Sposta barili. Carica 5 barili su un camion e nel minor tempo ti riesce. Ribaltamento auto. Ribalta un'auto prima che scata il tempo. Le campane. Muovendo il joystick a destra e a sinistra suona le campane. Lotta di sumo. E la prova finale, dove dovrete buttare giù dal ring il vostro avversario nel tempo stabilito. E ora a voi. E il titolo originale di questo gioco è Jeff Capes Strongman. Anche qui abbiamo a che fare con una simulazione sportiva, diversa però rispetto a quelle tradizionali. Si parte con questa sorta di training in cui bisogna allenare gli otto muscoli presenti, indicate dalle icone a destra e sinistra, facendo riferimento alla barra orizzontale della forza posta in basso, che tramite la pressione del tasto di fuoco si dovrà distribuire in parti più o meno uguali, fino all'esaurimento della stessa. In realtà sarebbe possibile farlo anche con il metodo dello smanettamento forsennato che già conosciamo, ma in questo caso, visto che ci si può avvalere di un'alternativa, la andiamo a utilizzare. Completata questa fase si passa alla prima prova, ovvero il tiro del camion. Qui bisogna posizionarsi velocemente su una delle icone, quando indicate e premere il tasto di fuoco, in modo da permettere all'atleta il movimento che gli servirà per portare a buon fine la prova. E' importante la velocità di esecuzione che determinerà un buon risultato finale. Il gioco non è male a livello grafico, si presenta colorato bene nel suo insieme. Abbiamo anche una musica di sottofondo che accompagna lo svolgimento del training e delle prove. Ispirato alle gesta dell'atleta Jeff Capes, che negli anni 80 vinse diversi titoli e medaglie, prendendo parte alle Olimpiadi. Alla fine ci verrà mostrato un totale dei punti accumulati. Prima di passare alla prova successiva si torna alla fase che prevede nuovamente una distribuzione della forza sui muscoli, che si andrà a sommare a quella già effettuata in precedenza. E abbiamo quindi la prova del taglialegna, un po' strana a dir la verità. Bisogna semplicemente premere il tasto di fuoco per fare in modo che la scure, o qualunque cosa sia, colpisca sempre la stessa parte su quello che probabilmente è un tronco d'albero. Anche qui, una volta superata questa fase, si passa a una nuova distribuzione di punti forza, e di seguito si va avanti con le prove successive. Bene, direi che per quanto riguarda Massless è tutto, possiamo andare avanti. E andiamo a vedere il terzo dei giochi proposti, ovvero Red Colt. Siamo nel vecchio Far West, la West Bank è la banca più famosa e ricca. Tu dovrai cercare di rubare i depositi da ciascuno dei dodici sportelli della banca. I giorni, che saranno due per ogni tentativo, sono suddivisi in nove turni, due dei quali si svolgono di notte e sono estremamente pericolosi. Ricorda che perderai una vita tutte le volte che sarai colpito o che colpirai una persona innocente. Stai quindi attento, perché ne hai solo tre. Quando sei riuscito ad avere il denaro dei primi tre sportelli, spostati da sinistra a destra verso i tre successivi. Ma potrai farlo solo quando tutti gli sportelli sono chiusi. Terminato ogni turno dovrai superare un duello con tre assassini spietati. Guarda il contatore e spara, non appena essi mostreranno i loro fucili. Fai molta attenzione e sappi che la seconda giornata ti riserverà delle belle sorprese. E il nome originale di questo gioco è West Bank. E qui abbiamo l'adattamento a 8-bit di quello che fu l'Arcade Bank Panic della Siga, con qualche lieve differenza. Oltre alla versione Spectrum, vennero rilasciate anche quelle per Commodore 64, MSX e Amstrad CPC. Si parte selezionando un livello di difficoltà. Avendolo giocato più volte, devo dire che mi sono trovato molto bene usando la tastiera, in quanto lo spostamento della visuale è sui tasti O e P, mentre i tre colpi di pistola sono impostati sui tasti 1, 2 e 3. Come nell'Arcade abbiamo una vista frontale delle tre porte dalle quali entreranno malviventi e civili, e bisognerà stare attenti a chi si spara. Ci sono situazioni nelle quali un malvivente si nasconde dietro un civile, ed è importante la prontezza di riflessi nello sparare nel più breve tempo possibile. Nella parte alta abbiamo 12 caselle suddivise in 6 per parte. Spostando la visuale a destra e sinistra, con i tasti che vi dicevo poc'anzi, bisognerà raccogliere il denaro. Una volta che tutte e 12 caselle saranno riempite, si passerà alla fase successiva di gioco. Anche qui di tanto in tanto dietro una porta può arrivare il ragazzino che tiene sulla testa sette cappelli, uno sopra l'altro, e dopo averli colpiti si può trovare in alternativa o il denaro, che si andrà ad aggiungere ad una casella eventualmente vuota, oppure una bomba che se colpita esploderà e farà perdere una vita. Ne abbiamo solo tre a disposizione. Molto ben fatta anche questa versione Spectrum, nel suo insieme si lascia voler bene. Ho notato solo un lieve ritardo nella risposta dei tasti, ma tutto sommato è perfettamente giocabile. Vi consiglio anche di dare un'occhiata alla versione coloratissima del Commodore 64, in cui è presente anche un gradevole motivetto sonoro. Tra un livello e l'altro esiste una fase intermedia che non è presente nella versione arcade, ovvero quella di un duello in cui ci si va a scontrare con tre avversari contemporaneamente. Bisogna aspettare che ognuno estragga la pistola e sparare quindi nel minor tempo possibile, nella sequenza in cui loro andranno ad estrarre. Sbagliando questa sequenza si perde una vita. Immediatamente dopo si va al livello successivo con una difficoltà maggiore. E questo era Red Colt. Andiamo avanti. E andiamo avanti è la volta del quarto gioco, ovvero Electric Frog. La regina dei rospi guerrieri è stata rapita e imprigionata dalle vicide bestie rigelliane, loro mortali nemici. Incatenata nella stanza del re e trasformata in una apparizione orrenda ai suoi guerrieri, il suo destino dipende dallo scorrere del suo sangue, che non si è fermato da quando è stata divisa in due. Il compito di salvarla è stato affidato a te, il più eroico dei rospi guerrieri. Attraversare il vuoto temporale rigelliano, raggiungere il rifugio del re strisciante e smantellare la macchina mortale con i tuoi attrezzi cosmici. Gli otto pezzi del tuo kit sono stati sparsi nel vuoto cosmico e devono essere recuperati nell'ordine, e cioè frusta intergalattica, coltello cronosinclastico, binocolo a raggi X, pesce stellare, fucile a raggi protonici, pulbo da 3 milioni di megawatt, ascia cosmica, accendino zippo. La ricompensa del tuo successo sarà la mano della principessa e tutto il suo regno. La pena, la morte. E il titolo originale di questo gioco è Cosmic Wartod. Si parte da una griglia che contiene 64 quadrati con differenti colori. Ogni quadrato è un nodo temporale, bisogna spostare il nostro girino per andare a cercare uno di questi nodi temporali e una volta trovato accedervi tramite il tasto di fuoco. Dopodiché si passerà ad un minigioco che dovrà essere inevitabilmente completato. Pena il ritorno alla mappa e la perdita di una vita. Una volta che si accede ad uno di questi minigiochi, il nostro girino si trasforma magicamente in una rana e deve evitare qualsiasi collisione con i nemici e allo stesso tempo eliminarne quanti più possibile. Completato il tutto, si torna alla mappa e si guadagna una posizione su uno dei quadrati. L'obiettivo è raggiungere quello colorato in giallo che sta in basso a sinistra. Esistono diverse categorie di nemici e la loro pericolosità è distinta per colore. Abbiamo poc'anzi visto un gruppo di colore bianco che sono i meno pericolosi mentre adesso si combatte contro un gruppo di colore giallo e qui il livello di cattiveria è un po' più alto. Ci sono casi come questo in cui può succedere che si passa da un nemico di un colore ad un altro. Probabilmente esistono delle situazioni particolari o dei bonus che permettono di farlo. Adesso il nemico, pur mantenendo la forma precedente, è di colore bianco e come vedete si muove un po' più lentamente rispetto a prima. Questo titolo venne pubblicato nel 1985 dalla Ocean nella sola versione Spectrum. Il gameplay si presenta gradevole anche se comunque serve un manuale per avere tutti i punti di riferimento necessari volendo provare a completare il gioco e vederlo un po' nella sua interezza. Esiste anche una concatenazione tra un minigioco ed un altro come questa in cui si passa ad una situazione completamente differente. Questo sembrerebbe a prima vista un boss di fine livello. Notiamo infatti elementi grafici diversi da quelli visti in precedenza però è solo un'ipotesi che vado superficialmente ad azzardare. Non conosco bene questo titolo quindi la butto lì. E questo è tutto per quanto riguarda Electric Frog. Passiamo al prossimo gioco. E andiamo avanti passiamo al prossimo dei giochi proposti ovvero Bob. Quanti di voi si appassionano vedendo le gare di Bob alla tv e sarebbero desiderosi di careggiare a bordo di uno skate su una pista durante il campionato mondiale. Questo gioco vi offre questa possibilità e lo scopo naturalmente è percorrere il tracciato nel minor tempo possibile. Per iniziare la discesa con il vostro Bob dovete premere il tasto dell'acceleratore. Lo schermo vi mostra sia la veduta reale di quello che ti si presenta davanti sia una veduta generale della pista. Dovrete fare molta attenzione a non essere troppo veloci quando dovrete curvare, altrimenti vi schianterete. Avrete a disposizione per questo motivo il freno. Una volta che avete terminato la vostra corsa premete spazio per ricominciare un'altra appassionante gara. E questa è la seconda prova che fa parte del gioco Winter Sports. Vi ricordo che nel suo intero questa simulazione sportiva comprende 8 prove e qui ne sono state estrapolate 2 e inserite come giochi singoli. Per il controllo come in precedenza ho scelto i tasti che di default sono Q, A, O e P con la differenza che per una volta non bisogna smanettare per acquisire velocità ma si andrà a regolare l'accelerazione semplicemente premendo e dosando il tasto Q. Per evitare un ribaltamento bisogna poi giostrare con i tasti O e P rispettivamente destra e sinistra i passaggi in curva. Possiamo dire che tecnicamente si va a fare un controsterzo. Esiste anche la possibilità di frenare e ridurre quindi la velocità tramite il tasto A. In basso abbiamo due barre orizzontali che ci indicano rispettivamente il controllo e la velocità mentre in alto a destra viene segnalato il tempo trascorso. Una volta arrivati al traguardo anche qui si va al game over. E questo era Bob, passiamo al prossimo gioco. Andiamo avanti e passiamo al prossimo gioco, ovvero Open War. La guerra non sta andando bene. I nemici tengono una vasta area del vostro territorio e gli alleati hanno bisogno di tempo per reintegrare le loro forze. Da parte sua, invece, il nemico ha molto tempo e sono ad un passo dall'ottenere i risultati che gli permetteranno di avere la bomba atomica e con questa risorsa vinceranno sicuramente. Come ultima speranza rimani tu, che a bordo del tuo caccia potrai distruggere i laboratori di ricerca nemici. Durante il tuo attacco dovrai attraversare campi minati, evitare le caccia torpediniere, distruggere i distruttori e colpire in genere tutto ciò che si muove. Quando starai per entrare nell'edificio delle ricerche, la porta si chiuderà e dovrai gettare i tuoi scudi prima che sia completamente chiusa. Ricordati che se hai selezionato la tastiera, prima di iniziare a giocare dovrai scegliere i tasti. Fai attenzione, che durante la prima fase dovrai scegliere i bersagli nemici da colpire usando il cursore e premendo il fuoco. Quando sarai pronto ad attaccare, scegli il disegno del combattimento e premi fuoco. Non dimenticare inoltre che mentre stai sparando non potrai muoverti e sarai un facile bersaglio. E il nome originale di questo gioco è Death Wake. Death Wake Qui siamo a tutti gli effetti su quella che si può definire una simulazione strategica. Si parte da una mappa che illustra una determinata zona, quella controllata dal giocatore e la parte verde che sta in basso. Tutto il resto è la zona nemica. In linea di massima, la parte iniziale ricorda un po' il risico dove bisogna decidere chi attaccare. Le icone in giallo sul territorio controllato dal giocatore rappresentano le forze di offesa e di difesa disponibili. E tramite un puntatore andiamo a scegliere da dove far partire l'attacco e successiva destinazione. Al momento è possibile scegliere solo le formazioni aeree. Una volta cliccato su una delle relative icone, ci viene detto quanti aerei abbiamo a disposizione. Questa fase è a turni e per completarne uno bisogna disporre di tre attacchi. Dopodiché, cliccando sulla icona rossa in basso a sinistra, si passerà all'azione vera e propria. Partirà dapprima il nostro attacco e di seguito il computer risponderà con le sue tre mosse. Successivamente si apre un nuovo scenario di gioco in cui bisogna difendersi da un attacco aereo che viene portato ai danni di un gruppo di tre delle nostre navi. Disponiamo nuovamente del mirino che ci permette di fare fuoco contemporaneamente con tutte le navi. Bisogna abbattere gli aerei che arrivano dalla parte opposta e che saranno letali se non distrutti in tempo. Purtroppo non è facile sopravvivere a questa fase, in quanto gli aerei nemici lanciano dei siluri che colpiscono sempre il bersaglio e una volta distrutta la nave ammiraglia il gioco termina. E questo è tutto per quanto riguarda Open War. Andiamo avanti. E andiamo avanti, andiamo a vedere gli antenati. Come vi ho detto sto saltando due giochi che sono questo, Robot Mask e Gangster in quanto, come vi dicevo prima, un po' rognosi a livello di gameplay e di gestione dei controlli. E allora vediamo gli antenati. Da una landa deserta sorgevano le prime costruzioni della più famosa Hollywood, ma per creare questo paradiso terrestre il nostro Fred dovrà trovarsi una donna e convincerla a vivere con lui. Tuttavia, perché Mary gli presti una qualche attenzione, egli dovrà costruirle una casa. Tu dovrai aiutare il nostro amico nella sua impresa e permettergli di conquistare il cuore della sua amata. Nel primo schema Fred vedrà dei macigni emergenti dalla sabbia e dovrà utilizzarli per costruire la casa dei suoi sogni, servendosi del dinosauro come scala per finire il tetto. Ma dovrai fare attenzione perché dei nemici come Pterodattili e Tartarughe o i suoi stessi amici ostacoleranno il suo lavoro. Dovrai inoltre procurargli un'automobile per cercare ovunque i massi necessari e nello stesso tempo flirtare con Mary. Ricordati sempre di osservare il livello energetico di Fred perché lo scappare dagli Pterodattili o un suo scontro con Mary lo buttano a terra. Osserva inoltre il cuore rosso nell'angolo dello schermo perché pomperà più forte tutte le volte che avrà la meglio nel persuadere Mary del suo amore. Avrai però vinto solo quando il cuore pomperà al massimo e Mary seguirà Fred nell'affascinante casa preistorica. E qui abbiamo un primo titolo ispirato ai cartoni animati di Anna e Barbera con protagonisti i Flintstones. Il nome originale è Yabba Dabba Doo, gioco che venne rilasciato dalla Quicksilva nel 1986. Venne realizzato anche in versione Commodore 64 e Amstrad CPC. Scopo del gioco è aiutare il buon Fred Fleastons a farsi una vita da vivere in quella che è sempre stata la residenza storica della famiglia ovvero Bedrock. Si parte con il cercare un posto idoneo alla costruzione della casa che ci viene subito indicato dal cartello posto sulla destra direttamente nella fase iniziale. Dobbiamo quindi prima di tutto liberare la zona dalle rocce più piccole e successivamente utilizzando quelle più grandi che si trovano sparse un po' dappertutto iniziare la costruzione della casa. Per liberare la parte interessata bisogna prendere singolarmente ognuna delle rocce piccole e gettarle nella fossa che si trova nello schermo immediatamente a destra della zona di costruzione. Il tutto è reso più difficile dal continuo andi rivieni di animali proistorici e nel momento in cui vanno a scontrarsi con il nostro Fred gli fanno perdere energia vitale. Alcune delle rocce che si trovano sul percorso vengono lanciate direttamente dal dinosauro alato che arriva costantemente da destra. Purtroppo però il più delle volte ad essere rilasciate sono quelle piccole e al povero Fred tocca fare un lavoro supplementare per potersene liberare. Se disgraziatamente una di queste rocce cade sulla testa di Fred è inutile dire che si andrà a perdere una vita. Una volta liberata la zona si possono raccogliere le rocce più grandi per costruire la casa. E' possibile utilizzare una interazione sul tasto di fuoco che permette a Fred di correre ma si riduce con l'utilizzo. Può comunque essere ricaricata lasciando Fred nella sua normale velocità di movimento. La costruzione della casa viene poco per volta e nel momento in cui non è possibile procedere perché magari è presente anche una sola roccia piccola questa ci viene immediatamente evidenziata e va di conseguenza rimossa. Il gioco è abbastanza articolato dal punto di vista del gameplay, bisognerà infatti trovare un'auto che permetterà a Fred di spostarsi nelle zone più lontane per andare a raccogliere le ulteriori rocce necessarie alla costruzione della casa e allo stesso tempo riuscire a incontrare quella che poi dovrà diventare sua moglie. Come spesso siamo abituati ormai a vedere sullo spectrum qui abbiamo un mondo di gioco che si sviluppa in un ambiente grafico monocromatico nella combinazione giallo-nero. Questo metodo era spesso utilizzato all'epoca per bypassare in qualche modo quello che era meglio conosciuto come color clash, ovvero la sovrapposizione di elementi grafici di colore differente con uno di questi colori che andava poi a predominare sugli altri. Provate a pensare ad esempio a una simulazione calcistica con una squadra bianca e una nera. Il color clash in un caso del genere creava delle situazioni leggermente confuse. Bene e abbiamo visto anche gli antenati penultimo dei giochi in elenco. Andiamo a vedere l'ultimo. E andiamo a vedere l'ultimo dei giochi proposti, ovvero Silver Arrow, che chiude questo numero 20 di special program in versione Spectrum. Ti stai regando da solo nella sfida per il miglior arciere indetta dallo sceriffo di Nottingham, ma Scarlet e il tuo fedele amico John hanno nascosto delle faredre in posti segreti nella foresta per aiutarti. Ma in questo periodo dell'anno ci sono nel bosco delle streghe, dalle quali dovrai guardarti perché se le incontri pretendono un pagamento e dovrai quindi aver previdentemente raccolto delle piante o delle radici da offrir loro. Inoltre nel profondo della foresta vive un'eremita, che pur guarendo chiunque sia pur vicino alla morte da ogni malattia, non permette sortileggi vicino alla sua casa. Per calmare l'eremita dovrai pagarlo con tre borse d'oro, che ridistribuirà ai poveri. La tua spada e il tuo fedele arco si trovano nella vecchia foresta di Ente, così lontano perché tu al tuo ritorno non possa essere riconosciuto. Recuperali e recati quindi alla sfida. Buona fortuna, amico! E per quanto riguarda il nome originale di questo gioco abbiamo Robin of the Wood. Il gioco è ispirato alle gesta di Robin Hood, qui siamo in tema Arcade Adventure e nei panni dell'eroe in questione dobbiamo muoverci attraverso le innumerevoli lande della foresta di Sherwood alla ricerca delle faretre nascoste. Robin può correre in tutte le direzioni, raccogliere oggetti e attaccare inizialmente con un bastone. I nemici principali sono le guardie normanne che attaccano sparando dardi di balestra e possono essere eliminate con qualsiasi arma in modo permanente. Sono presenti anche degli animali che vanno schivati e non si possono uccidere. Il mondo di gioco oltre alla foresta comprende al suo interno le prigioni del castello, location dove ci troviamo adesso, e il castello dove risiede lo sceriffo di Nottingham. Ogni schermata ha sfondo nero e pareti colorate formate dalla vegetazione e dalle mura ed è collegata in orizzontale o verticale alle schermate adiacenti. Sparse per la foresta si trovano borse d'oro che una volta raccolte serviranno a Robin per ottenere da un determinato personaggio armi e frecce magiche necessarie per il completamento dell'avventura. Graficamente molto ben strutturato, nel loro insieme i personaggi sono disegnati con parecchi dettagli che ne avvalorano il gameplay. La velocità di gioco è ottima e il tutto si muove in maniera abbastanza fluida. Anche la grafica che comprende le parti che compongono la foresta e gli ambienti aggiuntivi merita sicuramente una considerazione positiva. Nel suo intero il gioco è formato da più di 300 schermate e ovviamente è indispensabile disporre di una mappa qualora si volesse approfondire l'esperienza di gameplay. E questo era Silver Harrow, ovvero l'ultimo dei giochi proposti per questo numero 20 di special program in versione Spectrum. Possiamo quindi andare a chiudere. Ed è tutto anche per questo numero 20 del nostro special uscito nel marzo 1986. Vi ricordo gli appuntamenti sulle nostre pagine Gameplay Retro Games World e Future Gaming World dove potete seguirci con dirette live e rubriche a programmazione settimanale che riguardano sia il retro gaming e i giochi contemporanei. Iscrivetevi ai nostri canali YouTube e Twitch dove trovate le playlist relative a tutto il materiale che di volta in volta pubblichiamo. Non mi resta che augurarvi buon divertimento con i vostri retrosistemi ed emulatori preferiti. Io vi do appuntamento al prossimo numero di special program sempre in versione Spectrum 48k. Grazie e arrivederci. Ciao!